Vieni pure qui a comodo ti prego, ho visto che ci hai portato i tuoi capolavori perché tu Giorgia sei una ragazza giovanissima, tu hai studiato, comunque arrivi dal Friuli e hai studiato, però da lì hai capito che vista la crisi insomma i contratti non erano diciamo contratti a lungo termine o comunque non c'era tantissimo lavoro per cui cosa hai fatto? Hai sfruttato diciamo le tue corso e ti sei data completamente all'arte quindi tu parlando tra le città, raccontami un po' innanzitutto i tuoi genitori come hanno preso diciamo queste, ma per chi le realizzi? Allora per privati o per comunità, la maggior parte la presenza di colle o solventi è ridotta proprio al minimo o foglie d'argento o di un altro metallo se vogliamo e anche la... Inizialmente la producono più che altro all'estero, i loro clienti sono diciamo tutti all'estero mentre pubblicizzi diciamo... Esatto, pubblicizzo e partecipo a diverse rasse Lo tempo impieghi a realizzare un'icona? Allora per le piccole all'incirca una sconti... Qui cosa ci hai? Sì, delle prete preziose, quindi è molto particolare, cesellata e anche io ho la spending review, diciamo così Tutto secondo a regola, ecco, non è una... Non è la forma, esatto, dell'età Tutti i giovani che sono venuti qui a trovarci, siamo contenti di ripeterlo che veramente in Italia fa già una messa con le sue opere d'arte e adesso invece ci trasferiamo vicino Siena dove il nostro Andrea Di Carlo è andato a intervistare un produttore un produttore che invece coltiva diciamo i suoi vigneti ascoltando però della musica classica quindi vediamo insieme questo servizio di Gabriella Passerini Morandi O è in difetto, quindi quando il peso in modo significativo dell'organo genitale maschile E per ferire, quindi l'ovaio policistico Questo poi è il, diciamo, il pro... Giorni matura un follicolo ovarico e lì deve essere fecondato oppure no A volte infertilità di fronte a una condizione di eccesso a queste persone il loro modo di approcciare Al fatti non basta è recente Dall'attività riabilitativa ambulatoriale di riabilitazione intensiva Dove... Studiato, comunque arrivi dal Friuli e hai studiato, ti sei, diciamo...